Un giovane, una sera, conosce una ragazza bellissima, alta, con un bel seno prosperoso. La invita fuori, bevono qualcosa insieme e poi lui la riaccompagna a casa e lei a quel punto gli chiede di salire. Salgono a casa di lei e naturalmente fanno l'amore in modo sfrenato tutta la notte. La mattina lui si sveglia, fa un giretto per la camera e vede sul comò la fotografia di un bel giovane, bello e prestante. Allora gli fa, ma questo chi è, scusa? È tuo marito? No, no. Ah, è il tuo fidanzato allora? No, no, nemmeno. Ma forse è tuo fratello? No, neanche. È tuo padre, è un amico? No, ma scusa, ma allora chi è questo qui? Lei si avvicina, gli mordicchia l'orecchio e sussurrandogli fa, quello ero io prima dell'intervento. Se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri, iscriviti al mio canale YouTube cliccando sull'icona qui a destra. Ah, dimenticavo, è gratis.